Da gennaio a giugno i pendolari della tratta Messina-Catania-Siracusa hanno perso, a causa dei ritardi accumulati dai treni, 32.421 minuti pari a oltre 540 ore, sottratte soprattutto alle proprie attività di lavoro e di studio e dalle proprie famiglie se in fase di rientro dal lavoro, e quanto emerge da uno studio condotto dal Comitato Pendolari Siciliani. Parallelamente i minuti di anticipo nello stesso semestre esaminato sono stati 6.649, equivalenti a circa 111 ore. Nel semestre esaminato sulla tratta Messina-Catania-Siracusa sono stati soppressi 9.112 km di treno. Quasi la metà dei treni è sempre in ritardo, i 1.958 sono i treni in ritardo entro i 5 minuti, pari al 56,23%, 608 sono i treni in ritardo fino a 10 minuti, pari al 17,46%, e 492 sono i treni in ritardo fino a 20 minuti, il 14%. Infine 424 sono i treni che sono arrivati in ritardo con oltre 20 minuti. Per Trenitalia il ritardo fino a 5 minuti non viene considerato come ritardo. L'idea del monitoraggio è nata proprio dalle dichiarazioni dell'ufficio stampa di Trenitalia sui disagi del 17 gennaio 2013, affermando che si trattava soltanto di un caso isolato.